Non lo so. Se qualcuno l'ha visto, se qualcuno l'ha preso, che non abbia paura a venire da noi e a portarcelo, perché ormai non sappiamo più dove cercarlo, se è possibile, non c'è nessuna paura, anzi, e se qualcuno ci aiuta pure a cercarlo, perché abbiamo bisogno di aiuto. Lei è la... La zia sono, la sorella del padre. Non sappiamo se è ferito, se... Non sappiamo niente, niente, non sappiamo niente. Non vogliamo sapere quello che è successo, aiutateci per favore.